si chiama l'intestino felice adesso il viso gli occhi gli occhi gli occhi sopracciglia la droga a passare 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 le luci 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 i am i am ciao grazie... di essere con me con me in questo video ASMR oggi, voglio provare come avrete notato dal mio sensibile in questo video uno stile nuovo che è va molto all'estero, all'estero all'estero, all'estero all'estero ma ho visto qualcosina anche in Italia però soprattutto lo voglio provare perchè mi avete chiesto tantissimi, vedi che mi sono tantissimi di fare un video del genere sia nei commenti nei commenti nei commenti nei commenti su Instagram di fare un video fast, 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 fast aggressive quindi veloce e aggressivo diciamo, abbastanza forte e deciso ecco un po' in contrasto col mio solito, 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 solito questo stile di movimenti abbastanza letti, 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 letti però volevo provarci perchè mi piace cambiare mi piace sperimentare, anche se questo si vede che non è il mio stile insomma però ci si prova quindi oggi ho tantissimi, 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 tantissimi e per informarmi meglio e per capire un po' questo stile mi sono ispirata principalmente da un canale chiamato asmr asmr e ha un luoghi in particolare li lascio qui sotto, qui sotto, qui sotto, qui sotto, qui sotto in descrizione molto, molto bello, mi è piaciuto molto e secondo me è una delle poche che non mi fa salire l'ansia ma questo mi fa vedere la verità ok tutti gli altri devo dire che non sono una grandissima, grandissima fan però, 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 provare non fa male nessuno e soprattutto ho deciso di fare questo video anche perchè, 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 perchè mi è stato chiuso anche di fare di nuovo il video 100 trigger in 4 minuti che fondamentalmente è molto fast, no? trigger veloci, veloci, veloci quindi mi sembra un modo per unire, 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 tutto tutto, 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 tutto ho scoperto, tra l'altro, dei trigger super, super, super interessanti e super belli secondo me quindi mi è piaciuto molto esplorare questo stile smr che di solito non mi ha patrina allora questo libro si chiama l'intestino il libro di un enterologa il libro di un enterologa felice che spiega come funziona l'intestino? che spiega come funziona l'intestino? ioаниluderemo qui sono andato che è stato lungo da gira di 25 suone i i i Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Dopodichiiii Sì. 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 Grazie a tutti. Faccio proprio più fatica questo tilano per partire. E un altro, un altro, un altro, un altro. E questo. E' un gel per sopracciglia di questo scuovolino. Che buon suono. Meraviglioso. Ok. Mi si sta attaccando anche. Ok. 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 questo è una trigger e adesso togliamo un po' di ear, 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 tracet이지 quindi segniamo un quadrato un cerchio e poi scriviamo s m r a intersect è fast 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 and agressive agressive fast 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 and agressive e ancora di seniamo un triangulo 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 un occhio un occhio un occhio un occhio le ciglia le ciglia la pupilla l'occhio l'occhio e ora continuiamo con questi movimenti 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 e adesso facciamo tracing sul mio viso ok? il viso gli occhi 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 il naso il naso i labbra i labbra il viso il viso i capelli i capelli i capelli il collo le spalle le spalle le spalle le braccia le mani le mani uno due tre cinque uno quattro cinque il palmo il palmo il palmo e ancora due tre quattro cinque e adesso tracing così ecco qui la mano la mano la mano la vedi? la mia mano la vedi? la vedi? la vedi? e il panno è il mio viso labbra il naso gli occhi sopracciglia e il viso il viso il viso il collo il collo la collana lo scollo e le spalle e ancora le spalle e facciamo un po' dagli occhi gli occhi gli occhi le sopracciglia le sopracciglia la fronte la fronte il viso il viso il naso il naso la bocca la bocca le collo le spalle le spalle le braccia le braccia io spero di avere davvero 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 per questo video di drinker fast 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 in aggressive in aggressive in aggressive quindi ti è piaciuto? ti è abbastanti briviti 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 un giorno a schiena io penso proprio si è giunta allora allora a passare a passare le luci e augurarti una buona buona notte 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 sogni sogni 良 buona puetta "! buona 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 si dreams si dreams buenas buenas noches dulce 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 sueños scurru scurru buon 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 ci vediamo good night good night buon 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 che li spera che li spera no